L'Unedi del Sommelier è un'iniziativa che abbiamo iniziato a promuovere negli ultimi mesi. Consiste in una visita a cadenza mensile presso le diverse cantine sul territorio italiano ed esperienze di degustazione di prodotti locali legati al territorio in cui si trova la cantina che scegliamo mensilmente di visitare. Oggi siamo qui a Imperia, abbiamo avuto occasione di visitare il Parasio, di degustare l'olio nuovo Oro del Borgo. La nostra giornata poi ci vedrà coinvolti nella degustazione dei vini della cantina La Sobversip e La Casetta per poi concludersi con una coffee experience presso la Torrefazione La Brasiliana. È il lunedì del Sommelier che è una giornata che viene organizzata da Aspi ogni mese in una location diversa con vini diversi, con prodotti tipici diversi. Oggi siamo qua a Imperia per assaggiare i nostri vini tipici, il nostro olio e siamo al Parasio perché sarà la nuova location del nuovo corso di primo livello da Aspirante e Sommelier che inizierà il 17 gennaio e quindi abbiamo unito le due attività facendo qua al Parasio la degustazione di olio e di vino e presentando ufficialmente il nuovo corso che inizia, come ho detto, il 17 gennaio. È una giornata particolare perché teniamo a battesimo una nuova iniziativa dell'Associazione Circolo Parasio unitamente all'Aspi. Sono presenti e poi vedranno nella panoramica che senz'altro verrà fatta e produttori d'olio, produttori di vino. E avendo avuto la fortuna di portare all'interno del Consiglio del Circolo Parasio l'amico Stefano Semeria, abbiamo dato là e oggi diciamo che è la prima giornata di un percorso che ci auguriamo lungo, incontri che avranno una cadenza mensile, quidicinale, poi lo decideranno i dirigenti per far conoscere le peculiarità della nostra terra, il vino e l'olio o l'olio e il vino e nel contempo far conoscere le bellezze del nostro centro storico perché prima di questo brindisi che si sta svolgendo l'amico Enzo Ferrari ha portato in giro per il rione Parasio il nostro centro storico tutti i signori che sono intervenuti a questa iniziativa.